buonasera a tutti noi siamo le bb sister e loro sono la nostra band saremo qui stasera in vostra compagnia per aglietarvi con un concerto noi facciamo le cover pop dance che vanno in radio adesso in versione acustica accompagnate da marco musumi c'è la chitarra da niscura allo gembe lei e leonora cristina la mia socia io sono roberta pagani tra poco iniziamo questa bellissima serata qui a cattolica e non vediamo l'ora buon ascolto